anticipazioni una vita prossime puntate spoiler spagnoli marcellina segreto shock ha avuto una relazione con il prete del paese ma vediamo nei dettagli che cosa accadrà e cosa è successo in passato alla simpaticissima marcellina apriamo una piccola parentesi parlandovi proprio dei palacios l'olita versa in condizioni di salute pescissime e si stanno rendendo conto che i suoi giorni stanno per finire disperata così l'olita affiderà a natalia la cura della sua famiglia e gli dirà le sue ultime volontà quelle di prendersi cura quando lei non ci sarà più del marito antonito ma quest'ultimo non si arrenderà che la moglie sta per spegnersi così riuscirà a mettersi in contatto con ramonso un luminare della medicina disposto a dare una speranza seppur piccolissima alla moglie di antonito palacios nel frattempo anabel continuerà a stare molto lontana da miguel ma vediamo che cosa accadrà a marcellina un retroscena inaspettato felipe tornerà nel quatterino dopo un salto temporale anche se dovrà affrontare molti guai per via di fatima che coglierà il momento giusto per truffare proprio felipe intanto marcellina inizierà a chiedere insistentemente delle informazioni sui asunto e indalenzia avendo il sospetto che tra i due sia accaduto qualcosa ma ecco che avverrà il colpo di scena perché durante questo litigio tra la moglie di asunto quindi marcellina e indalenzia il cugino rivelerà che marcellina aveva una relazione con il sacrestano del paese e i presenti resteranno a bocca aperta senza credere a quelle parole lo stesso jacinto rimarrà sconvolto mentre nel frattempo marcellina cercherà di trovare una giustificazione plausibile per convincere suo marito jacinto questo e tanto altro ragazzi nelle prossime puntate di una vita grazie 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 grazie